Sarà inaugurata domenica 23 settembre con una cerimonia che inizierà alle 11 il nuovo asilo nido del comune di Scoppito, Chicchi di Grano, una struttura che si trova di fronte al Parco Baleno. Asilo nido adeguato seismicamente grazie ad un finanziamento pubblico del Ministero, inserito nel programma 6.000 campanili. Si sviluppa su 235 metri quadri, ad un piano potrà ospitare sino a 25 bambini, dai 3 mesi sino ai 3 anni. 6 le aule, ci sarà l'aula gioco che agevolerà lo sviluppo della motricità dei bambini grazie a superfici morbide, una stanza riservata al gioco del cucù per nascondersi e scoprirsi, uno spazio sarà il laboratorio flessibile dotato di ripiani, cucinina con fornelli, fasciatoio per le bambole e tant'altro. Una stanza specifica per i più piccini, primi passi e costruzioni, l'aula per le attività logiche ed individuali, aula per il riposo e la lettura, con pedane che possono essere usate anche come un piccolo palcoscenico. Aula per il riposo, con materassiti contenitivi e l'angolo del gioco auristico, due bagni di cui uno con fasciatoio e l'aula pranzo. Ma nel nido i genitori potranno trovare anche una cucina attrezzata per preparare direttamente in loco i cibi. Una stanza sarà riservata al personale, oltre alla presenza di un ufficio e di una sala riunioni. La gestione dell'asilo comunale è stata affidata alla ditta Pipluri Service, risultata giudicataria di procedura pubblica. La struttura supera anche le difficoltà relative alle barriere architettoniche, in quanto c'è una rampa per diversamente abili all'ingresso dell'edificio.